Per le città e i territori dei domani la questione non è solo che cosa cambia, ma come gestire questo cambiamento. Vediamo che tra esperti c'è la necessità di creare un nuovo dialogo anche con i cittadini. Il tema principale per me è come fare, includere i cittadini a questo dialogo tra amministrazione, esperti e industria.